Una cordiale buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. E partiamo con la 1 dove si registrano rallentamenti a causa del traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bibio con la variante del Valico in direzione Bologna. Spostiamoci sulla statale Aurelia dove si ricorda dello scambio di carreggiata a causa di lavori tra Ponte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Uno sguardo ai cantiere di Firenze si ricorda che fino alle 14 di agosto rimarrà chiusa via Pisana nel tratto compreso tra Fonte Aggreve e Via della Casella per nuovo allaccio alla rete idrica. Chiudiamo con i treni l'Intercity 597 diretto da Milano a Napoli. Viaggio con 61 minuti di ritardo ferma a Firenze rifredda alle 19.18 ad Arezzo alle 20.01. Muoversi in Toscana Info realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!